Silvio Paolucci per celebrare il successo di Chiaratrulli, primo sindaco donna a Spoltore che si conferma roccaforte del PD e del centrosinistra. Si conferma ovviamente roccaforte ma soprattutto a mio avviso per il buon governo, per una grande amministrazione di dieci anni con Luciano Di Lorito alla testa e che ha visto Chiaratrulli impegnata, motivata e che con esperienza ha interpretato insieme la continuità e l'esperienza di una buona amministrazione con la volontà di proporre anche un progetto credibile e in qualche modo rinnovato, credo che sia un'arma vincente e ovviamente salutiamo la nuova sindaca di Spoltore che si unisce alla sindaca di Francavilla, grandi comuni dove il centrosinistra riesce ad eleggere delle donne che a mio avviso sono molto motivate, Chiara saprà fare benissimo perché ha già lavorato benissimo con l'amministrazione di Luciano Di Lorito. Abbiamo visto anche l'entusiasmo di Chiaratrulli in un contesto che potrebbe vedere un mandato che non arriva alla fine perché c'è la vicenda della nuova Pescara, come interpretare un po' tutta la situazione? Io credo che sarà al centro anche il progetto della nuova Pescara e tutto ciò che ne consegue in termini di scelte future della nuova amministrazione e credo che lei saprà dare un contributo determinante perché soprattutto ha una risorsa oggi molto preziosa nell'amministrare la cosa pubblica, la motivazione. Paolucci, uno sguardo alle altre comunali che si stanno tenendo in Abruzzo? Chiaroscuro, ovviamente pesa il risultato dell'Aquila anche se bisogna riconoscere che era un'amministrazione già uscente di centrodestra e credo che sia onestamente l'unico risultato in questi 39 mesi di Marsilio che il centrodestra regionale riporta a casa. Peraltro una situazione dove da un lato c'è il 51% che riporta a casa il centrodestra ma un centrosinistra, come si dice, con una doppia coalizione di fatto è competitivo anche in ottica futura. Ciò non toglie che qualche riflessione per quanto ci riguarda la dobbiamo fare. Ecco appunto su queste riflessioni, qui a Spoltore, centrosinistra compatto con Chiara Trulli evidentemente la stessa cosa non è accaduta all'Aquila. Sì, questo è uno dei temi e poi forse c'è qualcos'altro e secondo me uno deve essere oggetto di riflessione insieme al segretario regionale, ai consiglieri regionali, ai parlamentari, ai segretari di circola tutti coloro che si sono impegnati. È un risultato che segna da un lato lo stop ma che bisogna dire con molta onestà vede comunque l'intero centrosinistra essere in grado di competere. Grazie.